Buongiorno Davido, allora c'è stato il Google I.O., ho visto ribrandizzato in giro Google AI, giustamente perché alla fine Google soprattutto ha presentato, ha flexato i suoi prodotti AI, ci ha tenuto a far vedere un sacco di demo, un sacco di cose che stanno integrando l'AI nel loro ecosistema, giustamente perché hanno dimostrato di non essere indietro rispetto ai concorrenti, ma di aver preparato insomma il terreno per una rivoluzione quasi totale della loro offerta basata sull'AI, come poi ha detto il CEO Sundar Pichai. E le demo, diciamo, le demo durante gli eventi di Google sono sempre piuttosto fighe, a parte quelle del Live from Paris di qualche mese fa quando presentarono Bard e altre robe nell'AI, quello fu imbarazzante, soprattutto la tizia che perdeva lo smartphone, incredibile, però se vi ricordate qualche anno fa per esempio c'è stato nel 2018, ci fu la presentazione di Duplex, che era quell'intelligenza artificiale che simulava una telefonata a un esercizio commerciale, mi pare che avesse simulato una prenotazione di una serata a un ristorante in un tavolo, e dall'altra parte quella che rispondeva, l'essere umano che rispondeva, non si rendeva conto che stava parlando con una IA, ed era insomma cinque anni fa, per cui già gli avanzamenti loro li avevano dimostrati, poi dopo hanno perso terreno in altri modi, ma adesso ci tengono a far vedere che in realtà ci stavano lavorando e che hanno della roba interessante da proporre, da mostrare, e quasi tutto quello che hanno mostrato è disponibile, tranne che in Italia, naturalmente, arriveremo un pochino dopo per qualche motivo, però arriveremo, quasi tutto sarà disponibile liberamente, liberamente, insomma, con gli account di Google, a breve anche in Italia, e partirei, visto che loro hanno fatto un blog post con le cento cose che abbiamo presentato a Google IA, io non ne elencherò cento, mi limiterò alle cinque che mi interessano un pochino di più, partendo naturalmente dalla Google Search, e hanno fatto vedere questa demo in cui Google Search riempie, aumenta, arricchisce i risultati della ricerca, con la AI che va a aggiungere altre informazioni, o naturalmente va a proporre le cose che pensa che ti possano più interessare, eccetera. Questa roba qua ho visto commentato spesso in giro che potrebbe portare alla fine del SEO, del SEO, mi pare però un po' strana questa interpretazione, no? Perché intanto il SEO dipende da cosa si intende per SEO, perché se il SEO era mettere semplicemente una description e mettere nel testo alcune keyword interessanti in modo che Google interpretasse, quello probabilmente era già morto da diversi anni, no? Però se invece come il SEO si intende ottimizzazione per dei crawler, fondamentalmente, e questo invece è più viva che mai, perché questi sistemi di AI si nutrono di dati, di testo, e vanno a proporre informazioni basate sul testo che ritengono interessante. E quindi cosa fondamentale è far capire a questi crawler, a questi modelli, che un testo riguarda un certo argomento ed è interessante per un certo argomento. Quindi l'uso delle parole, delle keyword, dei metadati, queste cose qua sono ancora più interessanti, ancora più importanti, secondo me, probabilmente, per un mondo in cui non c'è più un elenco di link ordinati per importanza, ma un testo generato a partire da dati, che però evidenzia le fonti, le sorgenti da cui quei dati arrivano. Quindi non vengono messi completamente da parte, no? Per cui se un testo, un sito, deve risultare interessante per un modello, è ancora più importante lavorare sui metadati, sulle label di quel contenuto, per risultare poi rilevante. Dopodiché il SEO non è solo questo, naturalmente si compone anche di una rete di relazioni attorno a un contenuto, quindi quando questo contenuto viene promosso in altri contesti, in altri social, insomma, quanto se ne parla, quanto si diffonde, quanto si condivide, quanto aumenta l'autorevolezza di quel contenuto, quindi tutte queste cose rimangono, forse sono ancora più importanti, per cui non ritengo, non mi pare, di poter dire che il SEO con queste innovazioni sia morto, tutt'altro. E poi c'è la presentazione di Palm 2, non sapevo che esistesse l'1, ma a quanto pare esiste il 2. Palm è praticamente la risposta a GPT-4, di cui invece sapevo che esistesse il 3. Palm significa Pathways Language Models, per qualche motivo, e comunque è naturalmente un modello come GPT, il modello di linguaggio generativo, su cui Google basa i propri prodotti. Ci sono quattro modelli in realtà in Palm, quattro modelli di dimensioni diverse, ci parte da Gecko, poi c'è Otter, poi c'è Bison e poi c'è Unicorn, quindi abbiamo questi quattro modelli di grandezze, di dimensioni differenti, ed è praticamente il modello che sta dietro a Bard, come GPT sta dietro a CiaGPT. Tra l'altro Bard adesso è liberamente disponibile, accessibile a tutti, ma non in Italia, però arriverà a breve, e dovrebbe essere, insomma, quanto meno dalla demo che si è vista, dovrebbe essere al livello di GPT-3, di GPT-3.5, probabilmente non ancora a quello di GPT-4, leggendo qualche opinione in giro, però pare che fondamentalmente le capacità siano quelle lì, quindi staremo a vedere come evolverà. Tanto comunque questa è la base di quasi tutti i loro prodotti di AI generativa. Poi si va su Duet, Duet che è questa AI che è integrata dentro Google Docs e Gmail, quindi praticamente è una risposta a Copilot di Microsoft o a Notion AI, dentro integrato in Notion, quindi dentro Docs, dentro un documento, si può iniziare a chiedere un prompt per generare un certo tipo di documento, un testo, una tavella di Excel, o fare il riassunto di testi precedenti, o cambiare la tonalità di un testo, o tradurre. Tutte queste cose che chi usa, per esempio, Notion AI o Copilot dentro Microsoft 365 già conosce, però è anche integrato dentro Android Studio, perché naturalmente ha capacità di generare codice, e quindi è integrato anche in Android Studio, permette di fare la generazione di codice per alcune feature dell'app, tipo abbiamo fatto vedere la demo sulla modalità dark del tema dell'app, permette di generarla. Credo anche di aver capito che fa anche scaffolding, che crea dei file in studio, quindi per le applicazioni mobile. Comunque, pare interessante, anche in Gmail naturalmente è integrato e permette di compilare, di creare una mail automaticamente, o una risposta automatica, insomma. Questa roba qua. Poi, l'ultima cosa interessante che riguarda l'AI è Project Tailwind, che in pratica è, se ho capito bene, una sorta di modello AI personalizzato sui tuoi documenti, cioè tu dai a Project Tailwind impasto delle tue note, dei tuoi documenti, quindi pigli la roba da Google Drive, gliela fai macinare, dopodiché lui da queste informazioni che tu gli dai, estrai quello che ti pare, quindi sommari, quindi nuove cose generate a partire da quei documenti, fa ricerche più approfondite o risponde a delle domande basandosi sui dati che gli ha dato in pasto. Quindi puoi avere una facile, così, quindi puoi avere un riferimento storico dei dati che tu hai, dei documenti che tu hai, sfruttando appunto un modello di AI. E infine, giusto per non avere soltanto AI, mettiamoci un pochetto anche di sviluppo, di coding, perché hanno presentato anche roba sul coding. Una cosa in particolare, una cosa, una famiglia di cose in particolari è quella che riguarda Firebase, che è stato oggetto di numerose innovazioni, di numerose feature nuove. Intanto, central AI anche qui? Sì, central AI anche qui, perché Palm è stato infilato dentro Firebase sotto forma di estensione, perché sapete che in Firebase ci sono le estensioni che si possono attivare, che attivano nuove capability da collegare all'app. Bene, adesso con l'estensione, con alcune estensioni che sfruttano Palm API, si possono aggiungere all'app alcune cose carine. Per esempio, c'è un'estensione che si chiama Chatbot with Palm API, che fa quello che dice, quindi connette Firestore a Palm e quindi hai un Chatbot dentro l'app, poi ce ne sono altre, tipo per fare il, per fare il, cioè, summarize text, per fare il sommario, e poi c'è Semantic Search with Vertex AI, che fa naturalmente quello che dice, e quindi ci sono un po' di estensioni per sfruttare l'AI. E poi, tra l'altro, nel discorso estensioni hanno anche aggiunto una modalità per creare estensioni personalizzate e poi metterle sostanzialmente disponibili di tutti, quindi una sorta di marketplace delle estensioni, no? Cosa abbastanza diffusa ormai adesso. Quindi, se volete andare a provare a creare estensioni per Firebase, ora c'è la documentazione, il processo facilitato per andarle a creare e poi mettere a disposizione in un marketplace. Poi, proseguendo con l'innovazione di Firebase, ci sono le Cloud Functions versione 2 e, in particolare, c'è una novità importante, che è il supporto a Python. Quindi, si possono scrivere Cloud Functions in Python. Poi ci sono nuovi operatori per Firestore, tipo gli operatori OR. E, ultime due cose, Firebase adesso supporta Terraform, almeno ha un supporto iniziale per Terraform, quindi se usate Terraform ora potete usarlo anche per creare roba su Firebase. E poi, l'ultima, è che Firebase Hosting adesso supporta ufficialmente anche Astro, Naxt, SvelteKit e poi ho visto Flutter Web, quindi novità anche in Firebase Hosting. E ho finito qua perché ci sono tutte le altre cose, in realtà ci sono molte più cose aggiunte a Firebase, però andatevi a leggere il post ufficiale che le elenca tutte. Insomma, ci sono un bel po' di novità. Tra l'altro su Flutter Web, adesso questa non l'avevo messa tra le cinque, però mi viene in mente che hanno presentato anche delle nuove, delle novità per quanto riguarda WebAssembly, cioè hanno presentato la possibilità adesso di compilare direttamente Flutter e Kotlin per WebAssembly, quindi si può eseguire Flutter e Kotlin direttamente in Chrome via WebAssembly. E quindi non so cosa succederà con Flutter Web in realtà, perché se tu scrivi Flutter e puoi compilarlo direttamente per WebAssembly, forse Flutter Web perde un po' di importanza. Chiaro che poi ci sono anche gli altri browser, però insomma. Vedremo un po', perché infatti hanno fatto vedere la demo di Flutter dentro un'app Angular e comunicavano anche tra di loro, insomma era abbastanza interessante, però non so cosa succederà con Flutter Web. Vediamo, comunque è roba figa. Corollario, anche WebGPU è stato oggetto di una piccola presentazione. WebGPU di cui però si parla già da un po', già era stato presentato con la release della versione 113 di Chrome. Sarebbe interessante farci un po' un approfondimento, però non ho voglia adesso, perché non ho tempo, quindi la chiudiamo qua, magari lo riprendiamo in futuro. Quindi, grazie per avermi seguito, questo era un po' il mio riassuntino delle cose che mi sono piaciute di più in Google I.O. 2023 e noi ci sentiamo probabilmente a una prossima puntata. Ciao!